segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te nominavamo prima yolanda diaz la ministra spagnola del lavoro gallega il padre si chiama suso diaz adesso non so se si ricorda di averlo conosciuto ma le faccio vedere questa foto di sanna marir al concerto di ruin rock in una foto che ha fatto molto discutere che ha avuto un gran successo ecco la premier è andata a un concerto e indossava naturalmente una divisa da concerto la ola di entusiasmo in europa per questa giovane donna alla guida di un paese e le chiedo bersani la sinistra è un po indietro su questo fronte in italia l'unica leader politica e giorgia meloni come mai come mai io credo che noi abbiamo messo in campo spesso delle presenze femminili troppo spesso in ruoli cosiddetti femminili a organizzare le commissioni femminili o le battaglie femminili e femministe a occuparsi i servizi sociali a fare diciamo dove i maschi giustamente avevano meno sensibilità meno culture e così via e non abbiamo fatto abbastanza invece per far misurare far fare esperienza diciamo adesso la cosa si sta correggendo perché alla fine si va bene la meloni certo fa ma andiamo a vedere nel basso andiamo a vedere nei comuni andiamo a vedere nelle regioni il centro sinistra è nettamente più avanti quindi non basta un frutto solo bisogna vedere chi sta seminando però siamo ancora lontani dall'avere una premier come sanna marin in questo paese no una premier diciamo progressista se la mandano qui non è solo questione io ricordo che andai a un concerto di bob marley però ero vestito così perché venivo da una riunione cosa si fa a volte questo è un sbagliamento da concerto ha avuto il tempo di cambiarsi è anche una leader politica che ha chiesto l'ingresso nella nato ha preso anche l'iniziativa di chiedere l'ingresso del suo paese nella nato questa cosa qua ad esempio di questi due paesi storicamente neutralisti che vista la minaccia entro nella nato la vede come un fatto positivo così ci introduce l'argomento che segue con le due grandi io la vedo così che è una cosa a cui non si può certo dire di no e che punti se l'ha cercata che sia una buona notizia no ah non è una buona notizia no secondo me perché non è una buona notizia ma insomma strategica me vuol dire prendere atto che siamo in una situazione del genere devo dire che cioè dove anche svezia e fila cioè siamo in una situazione del genere devo applaudire dico fate bene io voto che entrino ok ma sono piuttosto triste c'è triste perché la nato torna avere un ruolo centrale triste perché stiamo si sta alzando la tensione c'è poco da fare si sta alzando la tensione è colpa di putin ok è colpa di putin però adesso salutare come un giorno di gioia il fatto che la nato si allarghi io dico è una cosa che va fatta per amor di dio ma io non riesco a perché qualcuno dicono ma secondo lei scusami secondo lei la svezia la finlandia hanno chiesto di entrare perché si sentono minacciati questo è evidente che si sentono questa è una spiegazione su si sentono minacciate e questo poi dopo di che possiamo avere anche un effetto qui se non si fa se non si dà una personalità all'europa per star dentro la nato ma con la voce in capitolo e l'europa corre dei rischi seri è perché ci saranno dei paesi che si sentono paesi maltici polonia vediamo questi qui che si sentono più protetti dall'inghilterra si dalla gran bretagna e dagli stati uniti che non dall'europa aggiungiamo questo la simmetria delle condizioni economiche sociali a proposito delle sanzioni che hanno un riverbero differente nei paesi europei e noi abbiamo salutato questa nuova fase dell'europa con una fase di ma possiamo se va avanti così cioè se si cronicizza questa guerra sono problemi seri per lei dice all'allargamento della nato può essere anche un problema per la stessa europa perché non riesce a far decollare l'altro grande progetto di esercito europeo questo lei dice certo quando c'è una germania che si riarma e non dice una parola all'europa si riarma da se fa bene ria ma per amor di dio però per baco e lì comincia avere qualche dubbio che possa esserci davvero un modello europeo di difesa che dentro la nato abbia però una voce ma oggi l'obiettivo qual è sconfiggere putin secondo lei no 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 l'obiettivo è appena si apre uno spiraglio minimo aiutare l'ucraina a negoziare con la situazione così sul campo si costruisce il rischio di avere le due corea anche in ucraina c'è l'ucraina del nord ma insomma ci sono anche altre armi che sono la diplomazia che sono l'isolamento diplomatico che sono le sanzioni non dico mica che io domani mattina riconosco il donbass sovietico o russo e intendiamoci sto dicendo però fermiamola questa guerra per baco e io capisco che l'ucraina dice prima andatevenne a casa e poi negoziamo però bisogna aiutarla come la stiamo aiutando con le armi dobbiamo aiutarla a trovare la forza di negoziare con dignità sempre che l'invasore aprono spiraglio che fino adesso non ha aperto e di questo mentre ringraziamo pierluigi bersani grazie